Presidente, oggi si discute di pomodoro, com'è la situazione allora? Per arrivare a questo vuol dire che la crisi è proprio dura? La crisi è durissima perché abbiamo dei costi che sono aumentati in un modo vertiginoso. Noi stiamo lavorando come CIA, stiamo lavorando in un organismo interprofessionale per stringere i tempi, per venire a un accordo quando prima è possibile. Noi sono tanti anni che di questo organismo conosciamo, crediamo in questo organismo e crediamo che l'unico tavolo dove si discute e si potrà avvenire un accordo è l'OI, l'organismo interprofessionale. Io personalmente ho fatto presente in questo organismo interprofessionale dei problemi che ha tagliato il mondo agricolo e quindi accelerare questo benedetto contratto quadro del pomodoro centro-sud da industria. Direttore, allora oggi si discute, il tema è pomodoro, è un pomodoro che deve essere l'oro rosso per la capitanata invece? Allora, purtroppo rischia di non essere l'oro rosso per via dell'aumento dei costi vertiginosamente. Noi abbiamo stimato intorno ai 15 mila euro l'ettaro per produrre mille quintali di pomodoro e con i prezzi della scorsa annata agraria, 11,50 centesimi al chilo e 11 centesimi al chilo il tondo, rischia di mandare in default le imprese agricole. L'imprenditore non ha convenienza a produrre il pomodoro se sono confermati questi prezzi. Per cui noi chiediamo che l'intera filiera discuta in maniera seria e si addivenga a un prezzo che possa salvaguardare il territorio, l'occupazione e l'intero indotto legato all'agroalimentare. Angelo Miano, oggi si discute del famoso oro rosso, almeno questo era quello di una volta. Cosa sta succedendo? Oltre al Covid ci mancava anche la crisi agricola? Giustamente questa non è una crisi semplice, è una crisi economica perché non avere un prezzo di un prodotto significa con l'innalzamento dei costi produrre imperdita e produrre imperdita significa fallimento delle aziende. Non possiamo permettercelo, il nostro è un sollecito a quelli che sono gli organismi preposti a chiudere rapidamente il tavolo in modo tale da determinare un prezzo concluo per la parte agricola e anche per loro, a sua volta permetterà il mantenimento del prodotto. Mantenere il pomodoro sulla capitanata è interesse nostro e degli industriali, quindi se andiamo bene noi vanno bene anche loro. Delocalizzare questo prodotto significherebbe perdere un'identità e perdere l'identità del pomodoro sulla capitanata non è possibile. Parliamo di 230 o 240 milioni di euro di fatturato, quindi è importantissimo sia per l'occupazione che per le imprese. Con Cardone Mario, referente per Confagricoltura Foggia del pomodoro e oggi si parla di pomodoro. Come vedete voi questa situazione? Ovviamente le varie confederazioni oggi più che mai devono essere unite per far sì che non si disperga quel, tra virgolette, io direi anche poco fatto negli anni passati. C'è preoccupazione da parte agricola in toto, a prescindere dalla sigla sindacale. Per questo ci siamo riuniti oggi per sollevare un problema, direi noto a tutti oggi, in quanto quello dell'aumento dei costi di produzione che riguardano sia la parte agricola. Ci sono delle voci, del bilancio che sono aumentate del 300%, delle voci che sono aumentate del 20% in maniera più o meno proporzionale, però degli aumenti di costo ci sono notevoli rispetto agli anni passati. A fronte di questo oggi non si ha un riconoscimento di un prezzo certo, quindi si cerca di fare sistema, di fare filiera con gli addetti del comparto pomodoro. Ovviamente questo non è un tavolo di discussione del prezzo, perché c'è un tavolo preposto della quale la agricoltura fa parte e ne riconosce in toto l'efficacia. Parliamo di un tavolo nazionale. Un tavolo del centro-sud, del centro-sud nazionale, dove si è iniziata la discussione. Ovviamente i tempi stringono, però la discussione è già partita, è in atto la programmazione. Il problema del prezzo è da definire, perché come spesso capita, il prezzo determina le superfici e poi ad agosto le superfici determinano il prezzo. Quindi non bisogna parlare solo di prezzo, ma di una programmazione più ampia in termini di superfici e di produttività, nel senso bisogna sapere pure l'industria cosa hanno ancora in magazzino e quindi fare una programmazione quest'anno serie più che mai. Direttore, col diretti presente anche questa manifestazione, più che manifestazione possiamo dire era un capire che cosa sta succedendo con i diretti interessati e quale possono essere poi i futuri scenari. Cosa dice col diretti? La strada sicuramente è quella dei contratti di filiera, come abbiamo fatto con Princess. In questo modo abbiamo chiuso il primo triennio sicuramente con soddisfazione da tutte le parti e con sempre più risultati. Stiamo avviandoci al secondo triennio che è iniziato quest'anno, sempre di più con integrazioni da quello che riguarda la parte etica, per essere sempre più attenti al prodotto. Quindi stiamo cercando di lavorare sempre di più su questa filiera che, come abbiamo detto, crea economia e indotto all'interno dell'agricoltura di Capitanata. Ovviamente le società, le associazioni di categorie, oggi più che mai dovranno essere coese per tutti quelli che sono i futuri scenari per l'agricoltura e non solo del pomodoro. La coesione dipende un po' da quelle che sono le progettualità. Noi abbiamo la nostra progettualità e sicuramente la portiamo avanti. Ognuno farà il proprio lavoro, sicuramente al meglio. Noi andiamo avanti per quelle che sono le strade di col diretti, sempre per dare propositività e economia al territorio. Chiudiamo. Allora, converrà o meno mettere il pomodoro a terra quest'anno? È una domanda da un milione di dollari, però sicuramente si metterà. Quindi da qualche parte conviene.